i ciotti di sicilia tutto tondo attenzione questo video è per i segreti che ci sono stati nella puntata di best weekend che ho fatto qui con francesco panella ti viene da ridere amore perché è stata un'esperienza bellissima che ricorderò per sempre ma oggi vi faremo vedere qui guarda qua fai vedere cavanera e tenea resort ci sono i vini ferriato già parentesi e poi andremo a dormina al ristorante siciliano quindi picciotti prepariamoci e viviamo assieme questa giornata da best weekend che abbiamo vinto e lo sai di chi era questa stanza ma io posso solo immaginare amore ovviamente questa è la stanza dove ha dormito francesco panella eccoci guarda cosa c'è all'interno si è il torchio è come se tu dormi veramente nella storia si quasi proprio immerso nella storia del posto vabbè certo c'è il bagno comunque proseguiamo amore andiamo ti porto nell'angolo dove abbiamo fatto la votazione la mattina seguente eccoci qua pure che la panella mi ha dato quattro punti per la location quattro punti per il mangiare e quattro punti per l'esperienza che ci piace fare bravissimo in quel momento io disse ma zitto devo vivere in giù io qua c'è il palmento che è una cosa che noi abbiamo visto giusto però una cosa che tu la vedi una cosa che tu la devi studiare esatto raccontare io non ho studiato mai nella mia vita ma quello che c'è qua bellissimo che è una cosa importantissima storica culturale io la mangio e basta di solito appunto ho dovuto studiare e rosita mi mannava cose da studiare sì e poi sicuramente avrei detto ma chissà che disse rosita non è stato bravo tu questo lo puoi confermare ma studiare come mai nella mia vita allora io confermo praticamente un'ansia un'ansia per imparare due cosine semplici semplici un'ansia tutta la notte non ha dormito nulla carlo perché questa amore è storia alla mattina alle 7 panesi si veniva ad allenare sì e io non me ne era accorto sì ero fuori si guardava e dice a vita lei ha chiuso la mattina che si allena alle 7 che bravo poi si gira lui mi avvisse mi fa a carlì tutta posta dormito bene perché lui è romano francesco scusami se tu non ti avevo riconosciuto e poi faceva colazione amore tutti i prodotti genuini che stai facendo ora arrivato a un certo punto si puoi avvicinare si vengo messo qui qui fermo immobile così la davanti c'era una telecamera fissa si e accanto uno della direzione diciamo del programma che mi faceva delle domande quindi qua era il confessionale brava tipo un confessionale quindi ero qua allora mi dicevano per esempio allora carlo siamo nel tuo ristorante magari una cosa che era successa di pomeriggio la mattina magari un concorrente sta dicendo ma questo piatto non mi piace tanto e io ero messo qui ci volevo dire antonio ma come non ti piace tanto te lo sei mangiato tutto dopo il pernottamento si passa al food almeno così erano programma amore certo il food lo facciamo qua da siciliano questo ristorante dove con panella abbiamo mangiato di tutto e di più e a iddo ci piacera assai sarda beccafico allora amore forza andiamo allora in questo punto si qua esattamente qua si qua c'è un bel tavolo abbiamo mangiato e poi c'è stata quella parte dove io ho parlato di tè di vittoria wow quando ci siamo emozionati tutti allora diciamo un'altra cosa quando io l'ho visto a casa poi mi sono emozionata pure io ti metti sta a chiangevolo tu noi vi salutiamo si il video dei segreti dei best weekend finisce qui si l'ultimo segreto è che io qui ho preso il caffè dopo quella mangiata e quelle emozioni che abbiamo provato qua si e con questo caffè voglio salutare i picciotti di triskelion che sono stati i ragazzi della tarantella come compari mi vanno a trovare che oggi purtroppo non sono 4 mila ma faremo un video solo su di loro solo per loro e alla fine si mi hanno detto scendi queste scale si scendi le scale trovi il conduttore si hai vinto best weekend e arriva per qua e c'era panella che mi aspettava qua ed esultavo si abbiamo vinto eravamo popola e qua c'era tutto lo staff che mi hanno fatto un grande applauso e mi rissero poi alla fine ma sei contento ci si ma non ci potevo credere mai io ma carlo che vengo da villa frati un piccolo paesino e vinco la prima puntata di best weekend e ce l'ho fatta grazie a tutti voi bravissimo amore quindi picciotti questo è il riassunto di questa bellissima esperienza mi raccomando seguite tutti i nostri video ciao picciotti e bocca al lupo pure a voi